I Pulcini 2007 sono un buon gruppo, sono composti da 19 elementi, 16 di movimento e tre portieri. Il lavoro svolto fino adesso mi soddisfa in pieno perché sono ragazzi che mi seguono, che ascoltano e hanno voglia di imparare, che è la base per poi riuscire a costruire qualcosa durante la stagione. La nostra settimana tipo è composta da due allenamenti, uno lunedì e uno mercoledì, che andiamo poi ad integrare con amichevoli o all'interno del nostro settore giovanile, quindi con la leva superiore o inferiore 2006 o 2008, oppure con le squadre del panorama cittadino. È un gruppo che parte da una buonissima tecnica di base singola e poi abbinata a una voglia di non mollare mai, di lottare su ogni pallone. E questo mi aiuta sia nell'allenamento perché riusciamo a tenere dei ritmi alti che ci permettono poi di arrivare alla gara nel migliore modo possibile. iscriviti al nostro canale